Il record dei turisti a Milano che sta caratterizzando il 2023 porta con sé anche benefici per tutte le attività milanesi legate al turismo, prima tra tutte la ristorazione. Dopo gli anni difficili del Covid e poi dopo un duro periodo causato dai rincari delle bollette di luce e gas, la situazione sta piano piano migliorando. Ma se i locali del centro riescono a beneficiare a pieno di questo boom di visitatori, il problema rimane nelle periferie che provano a ripartire ma in maniera più lenta. È vero, è un anno dei record, ci sono tanti turisti a Milano fortunatamente, però Milano viaggia un po' a macchia di leopardo. Diciamo che il turista sta un po' più nella parte centrale di Milano, quindi il centro e i ristoranti del centro, i pubblici esercizi del centro sono abbastanza contenti. Man mano che si va verso la periferia naturalmente c'è un calo. I navigli viaggiano a due velocità, c'è il naviglio grande che comunque ha sempre il suo appeal, il naviglio pavese che deve ancora un attimino riprendersi dalla pandemia. Dall'altro lato però sembra superato il problema della mancanza di personale, ora sono sempre di più i giovani che alla vecchia maniera si presentano nei locali con il curriculum in mano. Nell'ultimo periodo, diciamo che fino a un anno fa, sei mesi fa, si faceva molta fatica a trovare i dipendenti. Diciamo che la cosa è migliorata, ma si fa sempre una leggera fatica. È migliorata perché stanno arrivando curriculum, roba che non succedeva da 3-4 anni. La gente chiama anche al telefono chiedendo se c'è bisogno di personale. Si vede anche dei ragazzi volenterosi fortunatamente fare il giro classico che si faceva tanto tempo fa con curriculum in mano a chiedere se c'è bisogno di personale. Ma se il turismo aiuta la ripresa di bar e ristoranti, le ordinanze antimovida che stanno prendendo piede in questo periodo rischiano di penalizzare anche chi lavora nel rispetto delle regole. Le ordinanze sono sempre viste con un occhio pericoloso perché le ordinanze fanno sì che si vada a modificare anche il lavoro, che vada a incidere anche negativamente sull'andamento dell'economia, anche delle zone. Naturalmente purtroppo ci sono dei locali che si comportano male e quindi il comune in qualche maniera deve pure intervenire. Però io spero che intervenga in maniera mirata invece che andare a prendere tutta una zona.